ciao a tutti gente benvenuti sul mio canale di ario di bordo questo video sarà un video intervista tre giocatori tre leggende della nazionale padana che ho ripreso nell'estate del 2019 durante l'europeo con ifa ebbene sì esiste una nazionale padana partecipa alle manifestazioni con ifa e quest'estate erano nella repubblica dell'arsak che è uno stato indipendente fra l'armenia e la zerbegian perfetto passiamo alle vittime di questa intervista che sono stefano tignonsini classe 1981 ruolo difensore capitano della nazionale padana e ha partecipato tutte le manifestazioni con ifa poi passiamo ad andrea rota classe 1976 di ruolo ala andrea perdonami se non sei ala forse se centrocampista il io mi ricordo che sia la però transfert market ti da come centrocampista quindi diciamo che mi sono avvalso della facoltà artistica e segni particolari assegnato in tutte le manifestazioni con ifa e inoltre ragazzi è il più brizzolato della padana non ne troverete più bianchi di così dolci di infundo marco garavelli classe 1981 ruolo centrocampista come gli altri due anche lui ha partecipato in tutte le manifestazioni con ifa e il cuore e il cervello della nazionale padana e inoltre è stato definito da capitanti gnonsini il più bello della squadra a voi il giudizio allora per me vabbè ho avuto la fortuna di segnarvi tutte queste manifestazioni però veramente ho ben stampato in testa quello che ho segnato a cipro nella terza presidenza del girone è una partita molto simile a quella che aveva giocato contro west armenia l'altro giorno dove dovevamo vincere per passare il turno e non ricordo particolarmente perché è stata un'azione molto particolare partita dalla nostra area dove un contrasto recuperato parlo poi l'azione si è sviluppata con altri giocatori è stato un cross proprio marco spizzandola di testa mi ha permesso di entrare in area per presentarmi anche al portiere dopo una cavalcata che arrivava da oltre la nostra metà campo sono arrivato in sinistro ho segnato è stato il gol del 1-0 poi replicato da un altro gol di willy rossett ci ha permesso poi di andare semifinale poi di vincere contro il kurdistan è stato il gol probabilmente del 2 a 2 stavamo vincendo 1 a 0 poi la partita si è ribaltata 2 a 1 in un'azione non so se era danny manier difensore che giocava fatto un cross io non so come ho fatto potuto dire la palla di testa nel senso sono andato sul primo palo ma ero parecchio lontano l'ho incrociato sul secondo palo sotto l'incrocio è stato un euro gol e siamo andati 2 a 2 siamo andati a rigori e siamo passati l'argomento di gol per me è molto sfiscio perché da difensore ne faccio veramente buone però sono fortunato in torno dei coni fa al fine ne ho fatti 3 sul palo e due li ho fatti nelle uniche sedizioni invece due li ho fatti in ugheria ad ebrecen e tra il palo da uno in finale ho aperto le marcature e quello è il mio ricordo più bello è un ricordo di conifa che ogni volta quando sono giù di morale me lo guardo è il massaggio a polisse eravamo a cipro e avevamo questo fisioterapista che giustamente giocavamo ogni giorno e ci aiutava a recuperare e ha fatto questo massaggio al nostro direttore di radio direttore al direttore scena epocale urla non finire ma davanti a centinaia di persone dolorante il lacrime tutte le volte quando sono sottorista e guardo questo e io invece quello più divertente è successo in campo ed è successo a in svezia ostersund l'allenatore era fabian vantolina che saluto ciao fabian mi ricordo che c'era venuta una rissa tra forse il fratello di balontelli se non ricordo male vabbè niente probabilmente spulso se non mi ricordo male spulso i balontelli il nostro mister fabian cercava parlando un pochettino in maniera non ottimale l'inglese cercava di farsi capire dal guardialine la scena veramente epocale perché il guardialine era un colosso di due metri e lui gli si faceva incontro non essendo molto alto più o meno come me la scena era molto bella perché quell'altro gli diceva di uscire dal campo lui non voleva uscire l'ha guardato un attimo così e dopo qualche secondo il ripensamento ha preso vabbè esco e ha preso essere uscito è una scena che mi ricordo molto bene anch'io però leggo ricordi in svezia quando è stata per noi una spedizione molto sfortunata perché abbiamo partito veramente tanti tanti troppi infortuni alla fine comunque la squadra doveva vincere doveva far gol a un certo punto aveva una sostituzione e io pensavo tra me e me ma abbiamo finito i campi che succede e nulla esce un difensore e entra un attaccante cioè non riuscivo a capire chi fosse perché ho detto ecco com'è che non riconosco mio compagno di squadra praticamente era il portiere in seconda con la maglia dell'attaccante è entrato misti fa perché misti me la sento me la sento me la sento la risolvo alla fine la risolvo ha fatto un gran gol grittini con saluto e nulla e lì è stato veramente un momento divertente perché poi figola e da lì non è più stato un portiere è stato un bomber quello che mi ha fatto più impressione è stata nella prima edizione in svezia a ostersund quando avevo incontrato nei quarti di finale la quantia di inizia che poi ha vinto il torneo eliminandoci 2 a 1 in quella partita e mi fece veramente molta impressione il loro centravanti che erano un ragazzo di colore di cui ovviamente non ricordo il nome ma molto alto fisicato che aveva anche delle buone qualità tecniche che poi ritrovammo l'anno dopo anche a bracciali in finale riuscimmo poi una volta a scolpiggerli però veramente mi fece una grossa impressione io ci ho pensato ci ho pensato a lungo e lui è stato veramente fortunato perché secondo me è il più forte ha giocato con me ha segnato tutte le competizioni con i fa e stavo vicino e quindi per me lui è il più forte in assoluto di queste anni forse un po' di parte non lo so però però è la realtà e se non sono di parte se sono di parte i numeri mi sventiscono perché i numeri non aumentano mai quindi è l'unico che ha fatto sempre presenze e quindi sono veramente fortunato che mi ha fatto vincere qualcosa e ce l'ho qua vicino e no poi da beh da difensore ricordo gli attaccanti l'attaccante di Cipro mi ha fatto dannare perché era forte fisicamente perché aveva caratteristiche importanti, teneva bene palla con alcuni grandi corsi, attaccava profondità e mi ha fatto gol in finale e lo ricordo con piacere vorrei anche l'incontrarmi invece per me visto che l'abbiamo anche incontrato due volte era il centrocampista del Cipro un giocatore che somiglia vagamente a Robben esteticamente però davanti alla difesa centrocampista al completo sapeva due gran piedi e anche in fase di interdizione veramente forte no però sono sincero si metterevano il più bello ed è l'altro che si offende quello sotto allora, no il più bello sei tu perché André è bravo ma brutto bravo, bravo, tipo bravo, tipo bravo e niente ragazzi con questa immagine della faccia perplessa di Andrea Rota si conclude così il nostro video intervista se vi è piaciuto condividetelo ma soprattutto se siete interessati al vlog calcistici seguite Diario di Bordi dove nei prossimi giorni nelle prossime settimane usciranno nuovi video su nuovi stadi grazie mille per la visione e ciao gente